oh 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 non so buon giardine buon giardine non so Quinti 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 Si! A che altro? No, vediamo qui. Dievo, dievo, manca ma in un po' di perché, perché va a te Quindi, la mia indietro ahhh ahhh si è lì qui ahhh 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 ok ok l'acqua, con i dati d'occhio, no no matнул al 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 No, 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 no. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti